L'annuncio arriva sorpresa, tre assessorati ad altrettante consigliere grilline, offerta però rimandata subito al mittente. Fallisce il tentativo del Presidente della Regione Puglia di un governo con i pentastellati. Un'aggiunta la sua, scelta per metà dal Popolo delle Sagre, 1613 su 2800 votanti e annunciata da Emiliano. Ecco i cinque neossessori scelti con il voto online, stile talent. Due del PD, Gianni Giannini, il più suffragato, riconfermato ai lavori pubblici, e Raffaele Piemontesi al bilancio, Giovanni Liviano, lista Emiliano, sindaco di Puglia, a Cultura e Turismo, Sebastiano Leo, di noi a sinistra, con delega a Formazione e Lavoro, Totonegro, dei Popolari, al Welfare, due sole donne, esterne, Loredana Capone, riconfermata allo sviluppo economico, e Anna Maria Curcuruto alla pianificazione territoriale. Poi le deleghe a Tre Grilline, Ambiente ad Antonella Laricchia, Agricoltura a Rosa Barone, Risorse Umane a Viviana Guarini. Non le ho incontrate, afferma Emiliano, solo ho letto il loro curriculum. Se rifiutano, aggiunge, per ora non ho un piano B. La parità di genere può dunque aspettare, in attesa di intervenire sulla legge elettorale e sullo statuto, ma i tempi, dice Emiliano, sono lunghi. Per ora terrà per sé la delega alla sanità. Prima riunione di giunta, venerdì a Taranto.